Ho deciso proprio di continuare, di non fermarmi, perché ci credo che questo popolo ha bisogno più di amore. Sono stata molto fortunata di essere amata, quindi l'amore non manca a casa nostra, anche adesso. Cerchiamo proprio di condividerlo con chi ha bisogno, veramente. La mamma Sofia è nata in una maniera molto spontanea al nostro arrivo in Congo nel 2017. Ho scoperto proprio il problema dei bambini di strada. Ne ho parlato con mio marito e gli ho detto, guarda, che sì, io ho del tempo libero, quindi ho voglia di fare qualcosa per questi bambini. Perché il discorso dei bambini di strada, che ci sono un po' dappertutto, anche nel mio paese d'origine, che è il Marocco, ma l'associazione proprio in Congo è molto, molto complicata e che è impossibile far finta di non vedere. Abbiamo deciso proprio di lavorare nel settore sanitario, educazione, acqua potabile. Un bambino che dovrà andare a cercare l'acqua non può andare a scuola. Oppure un bambino che non sta bene non può andare a scuola. La mamma Sofia è operativa in Congo anche dopo la tragedia, perché la verità io non ho pensato troppo, perché sono due cose separate. Quello che è successo in quel giorno tragico e mamma Sofia, perché c'è una speranza che abbiamo dato a bambine e donne. Non sono stati loro a toglierci Luca, Vittoria e Mustafa. E' nato anche un rapporto umano, perché non delegavo, andavo io dai bambini. Quindi c'è questo rapporto proprio profondo, che uno non può girare la schiena così perché un altro ha fatto un errore. Ho deciso proprio di continuare, di non fermarmi, perché ci credo che questo popolo ha bisogno più di amore. Io sono stata molto fortunata di essere amata, quindi l'amore non manca a casa nostra, anche adesso. E cerchiamo proprio di condividerlo con chi ha bisogno, veramente. Al primo anniversario, per dare un altro senso a una giornata di morte, è rinata la Fondazione Mamma Sofia, proprio una continuità di quello che è stato iniziato in Congo. Proprio per stare a fianco dei bambini che hanno bisogno, in difficoltà. La Fondazione Memoria di Luca ha il senso che portare i suoi valori come uomo, come diplomatico, perché Luca è stato il primo sostenitore quando ho deciso di fondare Mamma Sofia. Quindi io l'ho seguito nella sua carriera diplomatica e lui mi ha seguito in quello che facevo con Mamma Sofia. Ricordarlo in modo concreto, quindi cercare un po' di lavorare e fare i progetti unendo le forze e facendo rete. Questo è un modo per trasmettere il messaggio che ognuno ha bisogno dell'altro. Quindi dobbiamo fare insieme e l'unione fa solo la forza. Grazie a tutti.